Abbiamo visto quanto per Padre Pio la preghiera fosse importante e necessaria per la salvezza dell'anima, ma tra le cose che ogni persona necessita, il recitare le preghiere non è la sola. Secondo Padre Pio, infatti, l'unico modo per tenere il maligno lontano dalla propria vita è riunire le seguenti condizioni. Numero uno, come abbiamo detto, la preghiera. Dopodiché occorre anche andare a messa la domenica e durante le feste. Infatti, come dice il comandamento, ricordati di santificare le feste. Tra l'altro, Padre Pio lo aveva sempre affermato, dicendo che se la gente conoscesse il valore reale di una messa, ogni volta che ce n'è una, le forze dell'ordine dovrebbero intervenire dirigendo e controllando il traffico e l'accesso alla chiesa. Oltre a tutto ciò, importante è la confessione e la successiva eocarestia. Confessare i peccati, infatti, è davvero indispensabile, secondo Padre Pio, in quanto un'anima morta nel peccato mortale e destinata all'inferno. Quindi il frate di Petralcena consigliava sempre a tutti di confessarsi. È meglio ancora se ci si confessava con un intervallo di otto giorni. Infatti Padre Pio amava paragonare la confessione alla pulizia dell'anima e diceva già ogni otto giorni vi si accumula molto sporco. Immaginate cosa succede se qualcuno non si confessa mai. Per questo le confessioni di Padre Pio erano molto ricercate e a San Giovanni Rotondo a volte l'attesa era di svariati giorni. Occorreva addirittura prenotarsi per la confessione con Padre Pio. Facendo queste cose e non cedendo alla tentazione dei peccati, Padre Pio assicurava che si era in grazia di Dio e che si poteva stare tranquilli, in quanto il maligno ha una sola via d'accesso per entrare nella nostra anima e questa è la volontà di un soggetto di commettere volontariamente peccato. Per questo la confessione con la successiva comunione, come dicevo, o meglio come diceva Padre Pio, fa sì che accogliamo Gesù nella nostra anima e in quello stato di corse siamo protetti da ogni assalto del maligno. Il protagonista della testimonianza di cui sto per parlarvi è di nuovo il cantante napoletano Aurelio Fierro, che un giorno prima di partire per una tournée in Brasile si era recato a San Giovanni Rotondo da Padre Pio proprio per confessarsi, in quanto era a conoscenza che il suo lungo viaggio verso il Brasile poteva essere, diciamo, causa di qualche problema e quindi in quel caso sarebbe stato meglio confessarsi in precedenza, per essere sicuri al 100%, qualunque cosa accadesse. Quindi Aurelio Fierro andò a confessarsi, in quanto sapeva che su quelle strade lontane da casa poteva succedere davvero di tutto e poteva succedere di tutto anche durante il volo di andata o quello di ritorno. Ma ecco come lo stesso cantante racconta quel che accadde. Ricordo che era il 1961, dovevo partire per il Brasile, gli avrei fatto una tournée. Andai da Padre Pio, mi confessai e gli chiesi di pregare per la mia protezione. Mi fissò con quel suo sguardo penetrante. Era come se stesse vedendo qualcosa, il suo sguardo divenne triste, sembrava quasi soffrire. Poi posse la mano sulla mia testa e dopo degli istanti di silenzio mi benedì affermando, caro figliolo mio, tu non ti devi preoccupare e non devi avere nessun timore perché qualunque cosa accada io sarò lì insieme a te. Mi chiese a lungo che cosa volesse dire con quelle parole. Io non ero certo il tipo da aver paura del volo e inoltre il viaggio fu tranquillo. Arrivai in Sud America senza intoppi. All'aeroporto un mio amico venne a prendermi con un'automobile americana. Ricordo che quest'auto era spaziosissima e gigantesca. L'aeroporto di San Paolo si trova su un alto piano e per raggiungere la città quindi occorre discendere per una strada che è piena di curve molto pericolose e questa strada attraversa dei dirupi terrificanti. Ogni manovra sbagliata su quella strada sarebbe quasi sicuramente fatale. In quell'auto viaggiavamo in sei e tutto andava per il verso giusto. Di colpo però il mio amico che guidava sbiancò e urlò dicendo i freni i freni sono andati non posso più frenare. L'auto andava verso la discesa ed il motore aumentava paurosamente di giri. Viaggiavamo ormai ad una velocità inaudita senza possibilità alcuna di poter frenare la folle corsa dell'auto. Da una parte della strada c'era il dirupo la cui caduta in basso voleva dire morte sicure al 100% e dall'altro lato c'era la montagna rocciosa. Se avessimo sbattuto contro questa sicuramente se non fossimo deceduti sul colpo saremmo per forza di cose morti nella caduta in basso dalla scarpata. Insomma eravamo spacciati. Subito distinto pregai padre Pio presi la coroncina del rosario che il frate di Pietralcina mi aveva dato e che portavo sempre con me per protezione. Chiusi gli occhi il pensiero volò subito alla mia famiglia e in particolare a mia moglie e miei bambini. Di colpo un botto pauroso un boato inaudito. Io che ero seduto dietro mi ritrovai catapultato in avanti e avevo sbattuto contro il parabrezza. Il rumore fu indescrivibile. Incredibilmente però potevo muovermi, riuscivo a muovermi, ero tutto intero, non mi ero fatto nemmeno un graffio e anche le altre stavano bene. Incredibile, non potevamo crederci. Ci precipitammo fuori dall'auto e vedemmo che questa era stata frenata della sua folle corsa da una parete di sabbia sbucata nel nulla, la sola piccola e unica parete di sabbia che c'era in quell'enorme parete rocciosa. La sabbia aveva quindi attutito l'impatto salvandoci di fatto la vita. Feci la tournée e tutto andò bene. Tornato in Italia per prima corsa vogli andare a San Giovanni Rotondo per ringraziare Padre Pio. Il frate di Pietralcina, vedendomi arrivare, ancora prima che potesse aprire bocca e raccontargli tutto quello che era successo mi disse «Visto caro figliolo ti avevo detto che non dovevi avere paura che io sarei stato al tuo fianco». Là mi ricordai delle sue parole prima di partire, quando ero stato da lui a San Giovanni Rotondo, col senno di poi capì che Padre Pio in quell'occasione aveva già potuto vedere quel che sarebbe successo. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!